Il disegno è tornato una necessità perché il disegno si fa col corpo, è un'esperienza totale. Qui si può trovare un'infinita varietà di fonti di ispirazione che vanno dagli atlanti antichi, bellissimi, che ci hanno disegnato il profilo della donna e dell'uomo occidentale per secoli. Noi siamo quello che ci hanno disegnato nel Cinquecento. E ancora tutto il contemporaneo che è legato strettissimamente a queste radici che sono ancora solidissime. Grazie a tutti.